Grazie mille, Raja. Buongiorno a tutti. Sì, dopo l'intervento del Rettore, entriamo nello specifico di una delle dimensioni che ci interessano, in particolare la dimensione dell'acqua. Andiamo a cercare di capire insieme quanta acqua abbiamo disponibile, se quest'acqua è sufficiente, se lo è oggi, se lo sarà in futuro. Quindi proverò a guidarvi in un percorso che cercherà di capire queste cose. Partiamo dalla scala globale per andare a vedere sul pianeta Terra quanta acqua è effettivamente disponibile. Vedete tanti numeri nella parte sinistra di questa slide, servono per cominciare a quantificare, per cominciare a capire ciò di cui stiamo parlando. Ma forse serve ancora di più l'immagine che voi vedete sulla destra, nella quale è rappresentato il pianeta Terra e è rappresentato innanzitutto con questa sfera un po' più grande delle altre, l'intero volume di acqua, comprensiva dell'acqua degli oceani, che è presente sul pianeta Terra. Quindi vediamo da subito che la dimensione di questa sfera rispetto al pianeta Terra è sì grande, ma chiaramente stiamo già cominciando a ridurre. L'acqua degli oceani e dei mari è naturalmente acqua salata ed è quindi acqua che non è così facilmente utilizzabile dall'uomo. Cominciamo a scendere, quindi cominciamo a capire tutta l'acqua non salata che come serbatoio complessivo è disponibile sul pianeta Terra. Bene, scendiamo a dei numeri che sono ancora enormi, 1.1 per 10 alla 7 chilometri cubici, e che sono rappresentabili da questa seconda sfera. Vedete, cominciamo ad avere una sfera un pochino più piccolina. Sono dimensioni comunque gigantesche, tenete conto, stiamo parlando di chilometri cubi, immaginiamocelo un chilometro cubo, vuol dire un cubo di lato un chilometro, vuol dire mille miliardi di litri, quindi è tanta acqua. È tanta acqua, però tutta quest'acqua è disponibile, tutta quest'acqua è prelevabile, in realtà la gran parte di quest'acqua è sottoterra, ed è sottoterra, ed è quindi difficilmente, in molte situazioni, prelevabile dall'uomo. Allora, proviamo a limitare ancora, proviamo a limitare alla sola acqua che è disponibile in tutti i laghi e in tutti i fiumi sul pianeta Terra, il numero diventa questo, siamo sull'ordine di grandezza delle centinaia di migliaia di chilometri cubi. La sfera, la vedete? Questo pallino blu. Quindi siamo su dei volumi che sono diventati ancora più piccoli. È difficile ragionare in termini di chilometri cubici, è difficile immaginarseli. Prendiamo per questo un termine di riferimento che forse ci è più facile immaginare. Quindi prendiamo il lago di Garda, ce l'avete presente, immagino, copre una superficie abbastanza consistente nel nord Italia. Bene, immaginiamo di prendere tutta l'acqua contenuta nel lago di Garda. Quanta è? Beh, sono circa 50 chilometri cubici. Bene, ricordiamocelo perché questo lo teniamo in qualche modo comunità di misura delle cose che vedremo tra un attimo. Ciclo idrologico. Abbiamo visto i serbatoi, quindi quanta acqua è disponibile complessivamente nel serbatoio groundwater, quindi acqua sotterranea, nei serbatoi superficiali. Ma se noi prelevassimo tutta quest'acqua da quei serbatoi, chiaramente questo si esaurirebbe. E allora dobbiamo andare a vedere un'altra componente, ossia la componente che in qualche modo compete al ciclo dell'acqua, l'acqua che viene continuamente rigenerata. Quella è la componente che noi possiamo eventualmente pensare di utilizzare per i nostri utilizzi. Ecco, e allora vediamo la precipitazione che complessivamente cade sulla terraferma. Vedete, siamo dell'ordine di nuovo di 10 alla 5 chilometri cubi. 2.000 laghi di Garda. Va bene? Quindi all'ordine di grandezza ogni anno piovono sulle terre emerse, un volume piove sulle terre emerse, un volume di acqua è equivalente a 2.000 laghi di Garda. Quanto di questa pioggia si trasforma effettivamente in portata, quindi va a finire nei corsi d'acqua, beh, vedete, è poco meno della metà. Quindi siamo sull'ordine di grandezza degli 800 laghi di Garda ogni anno come volume complessivo di acqua che scorre nei fiumi. Lato disponibilità. Lato consumi. Siamo alla scala globale, sono numeri quindi molto semplici per ora. Quanto beviamo? Beh, circa due litri di acqua ogni giorno. Se noi sommiamo tutto il consumo di acqua che noi effettivamente beviamo in un anno, da parte di tutta la popolazione mondiale, siamo su questo numero. 5 chilometri cubi. Poca roba. Un decimo del lago di Garda basterebbe a dissetare il mondo intero. Allora siamo tranquilli. No, naturalmente no. Cominciamo a vedere perché no. Beh, innanzitutto perché l'acqua che beviamo è solo una piccola parte dell'acqua che utilizziamo. Guardiamo all'uso domestico, ossia lavarsi, cucinare, fare le pulizie. Quanto consuma una persona media nel mondo? Circa 100 litri di acqua al giorno. In Italia siamo un pochino più consumisti in questo senso, ne consumiamo circa il doppio in media. E allora vediamo che se facciamo il conto di nuovo su un anno e sulla popolazione mondiale, saliamo a 5 laghi di Garda come quantità che consumiamo in un anno. Però stiamo ancora ben messi, no? Perché ne abbiamo a disposizione 2.000 se guardiamo alle precipitazioni, 800 se guardiamo al deflusso. Cosa manca ancora in questo che stiamo guardando? Beh, manca ancora una componente che in realtà è fondamentale, che è la cosiddetta acqua che mangiamo. Vi introduco quindi il concetto di impronta idrica o contenuto di acqua virtuale, che sono due parole che sono circa sinonimi, per quello di cui parliamo oggi possiamo considerarli tali. Che cos'è l'impronta idrica? È il quantitativo di acqua che è complessivamente impiegato per la produzione di un certo bene alimentare, e non solo alimentare, anche i vestiti e tutto quanto. Facciamo un esempio, l'esempio è relativo ad una mela. Una mela quanto peserà? Un etto e mezzo, circa un etto. Quanta acqua fisica contiene questa mela? Supponiamo circa 80 grammi. Bene, quanto è il contenuto di acqua virtuale che invece contiene questa stessa mela? Il numero è scritto qua, sembra sbagliato, 70 litri. Com'è possibile? È possibile perché stiamo quantificando la quantità di acqua che è entrata nell'intero processo produttivo. Che cos'è il processo produttivo di un bene alimentare? Beh, è il processo agricolo. La parte in cui questa mela è cresciuta sull'albero, ha ricevuto della precipitazione. Questa precipitazione è stata fondamentale affinché potesse essere allocato il carbonio che poi a sua volta è andato a, diciamo così, di costituire la materia organica che costruisce la nostra mela. Ordini di grandezza, quindi. Stiamo passando da poche decine di grammi a 70 litri di acqua. L'impronta idrica di alcuni alimenti che consumiamo comunemente è riportata su questa slide. I numeri vengono dalla Water Foodprint Organization. Per un chilo di pane servono circa 1.600 litri di acqua. Parliamo naturalmente principalmente della fase di coltivazione del grano che serve poi a produrre il pane. Ma non solo. È l'acqua che è coinvolta in tutte le fasi produttive. Per produrre un chilo di carne servono 15.400 litri di acqua. Come mai questo numero è così più grande di quello relativo al pane? Perché nel momento in cui consumiamo carne stiamo introducendo un ulteriore elemento nella catena produttiva. In qualche modo, nel caso in cui noi mangiamo il grano, mangiamo direttamente quello che è stato coltivato. Nel caso in cui noi mangiamo una bistecca, la mucca deve mangiare il foraggio, quando va bene, quando non mangia altre cose. e per coltivare quello che viene dato da mangiare alla mucca serve acqua. L'animale rappresenta un elemento di inefficienza, un elemento di inefficienza molto forte che fa sì che questo numero sia così grande rispetto a quest'altro. Però, al di là di questo fatto, concentratevi sulla dimensione di questi numeri. 1.600 litri di acqua per un chilo di pane. Sono davvero dei numeri importanti. E allora capiamo il motivo per cui, quando andiamo a guardare il consumo complessivo di acqua, ossia consideriamo tutta l'acqua che effettivamente un essere umano utilizza per uso civile, industriale, agricolo, parliamo in particolare dell'uso agricolo, che è quello maggiormente responsabile, vedete che le damigiane, che prima erano due, sono diventate 70, perché ognuno di noi, l'abitante medio del mondo, consuma ogni giorno 3.500 litri di acqua quando andiamo a considerare anche l'acqua che mangiamo e anche i consumi industriali. In Italia, di nuovo, siamo decisamente peggio, nel senso che ne consumiamo in media 6.500. Di nuovo, pensate a... Il numero è freddo di per sé, ma pensate a che cosa significhi questo numero. In un giorno, ognuno di voi consuma 3.500 litri di acqua, 70 damigiane d'acqua. Immaginate cosa vorrebbe dire bere 70 damigiane d'acqua. Di nuovo, facciamo a questo punto il conto globale, moltiplichiamo per la popolazione del mondo, moltiplichiamo per 365 per trovare un valore annuo e allora il numero complessivo diventa 180 laghi di Garda, ossia abbiamo bisogno per effettivamente dissetare il mondo, ma anche per sfamarlo, di, a questo punto, un volume di acqua decisamente consistente. Siamo ancora su numeri più piccoli di quelli visti all'inizio come disponibilità, per fortuna, se no il sistema sarebbe chiaramente insostenibile. Ricordate? 2.000 laghi di Garda alla precipitazione, 800 per quanto riguarda il deflusso, però cominciano a essere paragonabili, sono più piccoli, allora ci chiediamo, quindi il sistema è sostenibile, non abbiamo un problema? Perché abbiamo un problema, invece? Abbiamo un problema perché, come al solito, guardare i numeri medi, guardare i numeri solo alla scala globale, racconta solo una piccola parte della storia. Abbiamo infatti una situazione di distribuzione delle risorse, della risorsa idrica in particolare, alla scala globale, che è, chiaramente, lo sappiamo bene, ampiamente disuniforme, ampiamente disuniforme con regioni del mondo che sono ricche di acqua e che non hanno problemi di carenza idrica, sono le aree riportate in azzurro su questa slide, e altre regioni del mondo dove, invece, in particolare, sono quelle segnate in rosso, altre regioni del mondo dove, al contrario, l'acqua disponibile è molto poca, troppo poca, per soddisfare le richieste delle persone che vivono in queste aree. ci sono anche aree, vedete, riportate in arancio, che sono zone dove l'acqua in realtà ci sarebbe, ma le condizioni socio-economiche fanno sì che non sia possibile effettivamente captarla, effettivamente sfruttarla e quindi effettivamente utilizzarla per gli usi umani. Quindi, questa mappa mi serve per dirvi beh, è vero, alla scala globale abbiamo 2000 laghi di Garda, ma non sono distribuiti equamente nel mondo, ci sono delle grandi disparità. Non solo questo, ovviamente, anche come la popolazione umana è distribuita nel mondo è altamente disuniforme, questa è una mappa di densità della popolazione da cui risaltano in maniera chiara alcune regioni del mondo, guardiamo in particolare all'India, la Cina, ma anche all'Europa, parte del continente statunitense, ma anche, vedete, la zona del Nord Africa che affaccia sul Mediterraneo, sono tutte zone densamente popolate. Ancora, questa è una rappresentazione dell'impronta idrica del mais, i valori sono in litri per metro quadro, impronta idrica del mais, ossia quanti litri di acqua servono per coltivare un chilogrammo di mais nelle varie aree del mondo e vediamo che anche qui sono delle grandi disparità. Come mai in Africa serve più acqua per coltivare lo stesso chilo di mais? Le ragioni sono due, una ragione climatica, c'è maggiore flusso di traspirazione e quindi serve più acqua, e una ragione tecnologica, la ragione tecnologica deriva dal fatto che le coltivazioni sono in media sempre un pochino meno efficienti e questo fa sì che i consumi di acqua siano necessariamente maggiori. Perché vi parlo di eterogeneità spaziali? Quindi sia della disponibilità, sia di quanta acqua serve, la quanta acqua serve è la popolazione residente, ma è anche l'impronta idrica. Che succede se cominciano ad esserci delle disparità spaziali nella distribuzione e nella richiesta? Succede che si innesca, che si innescano degli scambi. Scambi di cosa? Cosa scambiamo? Scambiamo beni alimentari. C'è un commercio globale di beni alimentari che collega tra loro tutte le nazioni del mondo che in qualche modo ogni giorno dell'anno scambiano tonnellate e tonnellate di prodotti. Bene, questa mappa traduce questi flussi in equivalenti idrici. Come abbiamo fatto a costruirla? Abbiamo preso tutti i 300 e passa prodotti alimentari mappati dalla FAO, abbiamo tradotto ognuno di essi in equivalente di acqua virtuale, quindi abbiamo calcolato l'impronta idrica di ognuno di essi, abbiamo sommato su tutti i 300 e passa prodotti e ci siamo quindi trovati in un anno quanta acqua virtuale viaggia da un paese all'altro. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi stiamo per esempio importando grano dall'Ucraina, importando grano dall'Ucraina questo grano è stato coltivato in un'altra parte del mondo, ha utilizzato risorse idriche che appartenevano molto tra virgolette ad un'altra regione del mondo. Stiamo globalizzando il sistema delle risorse idriche. stiamo facendo sì che non è più come il mondo che conoscevamo anche solo 50-60 anni fa in cui la scala nazionale funzionava per fare un bilancio idrico complessivo. Quanti siamo in Italia? Quanta acqua abbiamo a disposizione? Facciamo il conto e i conti tornano. No, una gran parte del sistema è iperconnesso. ci sono degli scambi che ammontano lo vedremo tra un attimo per l'Italia a volumi davvero immensi. Vi voglio solo far notare ancora una cosa da questa mappa. I pallini azzurri rappresentano le nazioni che complessivamente risultano degli esportatori netti di acqua virtuale. Quindi nazioni che esportano molti beni alimentari che hanno richiesto acqua per essere coltivati e che quindi in qualche modo vanno a ridurre le proprie risorse idriche a beneficio di altre nazioni. Vediamo il Canada, gli Stati Uniti, il Brasile, tutte zone potenzialmente ricche di acqua. Vediamo anche degli elementi di distorsione in questa mappa. Uno, l'Europa. L'Europa è una regione che abbiamo visto prima dalla mappa della disponibilità. È una regione ricca di acqua. Nonostante questo l'Europa è un fortissimo importatore di beni alimentari e un fortissimo importatore di risorse idriche in parte devuto alle alte densità di popolazione. Ma vediamo un'altra cosa ancora più importante. Vediamo se questo collabora. Eccolo. Vediamo cosa succede in questa zona del mondo. Questo è il pallino se non sbaglio relativo all'India questo è il pallino relativo al Pakistan. Come sono questi pallini? Sono blu. Che vuol dire? Vuol dire che l'India e Pakistan stanno esportando risorse idriche. Permettetemi di tornare indietro alla slide in cui mostravamo la situazione dell'India e del Pakistan in termini di disponibilità. Lo vedete? Siamo qua. Rosso, arancio, rosa vuol dire approaching physical water scarcity vuol dire ci stiamo avvicinando a problemi di scarsità idrica. nonostante questo sono nazioni che esportano verso il mondo occidentale cosiddetto beni alimentari. Questo può aver senso e sicuramente ce lo ha dal punto di vista macroeconomico ma sicuramente dal punto di vista ambientale di senso ne ha molto poco perché stiamo contribuendo ad andare a ridurre quella che è la disponibilità di acqua in una regione che ne è già particolarmente povera. Come siamo messi in Italia da questo punto di vista siamo uno dei principali importatori di acqua virtuale importiamo 90 chilometri cubi di acqua quindi circa due laghi di garda ogni anno più di due terzi del consumo di beni alimentari da parte della popolazione italiana viene da prodotti coltivati all'estero questa è una rappresentazione in cui vedete i grammi di questo fiume virtuale collegano tutti i luoghi di produzione al destinatario finale che è indicato qua sotto che è l'Italia che cosa vuol far vedere questa mappa vuol far vedere che come vedete c'è un affluente praticamente in ogni nazione del mondo il che vuol dire che stiamo importando beni alimentari praticamente dovunque stiamo importando virtualmente risorse idriche anche da nazioni che sicuramente già di loro sarebbero in crisi l'ingrandimento qui sotto serve solo a far vedere che le cose stanno diciamo peggiorando nel tempo e tutti i rami verdi sono quelli per i quali questi flussi sono cresciuti nel tempo quindi ad oggi tornando alla scala globale la pressione sulle risorse idriche è già una pressione estremamente elevata in questa mappa guardiamo solo i colori complessivi il rosso sta ad indicare una pressione sulle risorse idriche estremamente elevata il blu e l'azzurro sono invece casi in cui la nostra pressione è decisamente più limitata e più bassa vediamo che ampie regioni del mondo tra cui di nuovo vedete India e Pakistan sono caratterizzate da pressioni già oggi estremamente elevate quindi in termini di sostenibilità quando scendiamo dalla scala globale in cui sembra che di acqua ne abbiamo tanta a quella locale cominciamo a capire che lo vediamo i problemi in qualche modo ci sono e il futuro dove verso cosa stiamo andando proviamo a capirlo insieme anche se naturalmente quando si parla di situazione attuale è piuttosto facile andare facile no però è possibile andare a ragionare sui dati per comprendere quello che sta succedendo quando si guarda al futuro bisogna chiaramente andare a lavorare su proiezioni che si portano dietro inevitabilmente delle incertezze allora futuro sappiamo che la popolazione globale sta crescendo è prevista continuare a crescere almeno fino al 2050 le previsioni portano a pensare che al 2050 la popolazione globale sarà di 9 miliardi di abitanti divergono poi per il 2100 ma comunque questi sono già numeri sicuramente interessanti per noi beh la cosa interessante però naturalmente è che non tutte le aree del mondo crescono allo stesso modo impressionante in questa mappa vedere come il continente africano sta crescendo lo sappiamo bene in realtà in maniera molto più rapida di altre regioni del mondo però c'è una diciamo imbarazzante coincidenza se noi confrontiamo questa mappa con quelle viste prima tra le regioni del mondo che stanno crescendo maggiormente e le regioni più poveri di acqua quindi un primo elemento di ulteriore preoccupazione per il futuro deriva da questo il sistema sarà quindi ancora più squilibrato in questo senso tra luoghi dove la disponibilità è alta e la domanda è bassa e viceversa secondo problema non è solo quanti siamo ma anche che cosa mangiamo che conta le diete possono essere più o meno idroesigenti ossia possono richiedere più o meno acqua queste immagini sono simboliche per mostrare tutto quello sono tratte da un libro fotografico molto bello in cui si riportavano si chiedeva a famiglie in varie regioni del mondo di fare una foto con tutto quello che avrebbero mangiato in una settimana c'è qui il confronto tra una famiglia boliviana se non sbaglio e una famiglia del Regno Unito al di là della bellezza delle immagini quanta acqua serve per una dieta di questo tipo rispetto a una dieta di quest'altro tipo è quantificabile in circa due o tre volte il doppio o il triplo se noi mangiamo in questo modo rispetto a quest'altro quindi non solo saremo di più ma la tendenza che noi vediamo abbastanza chiaramente alla scala globale è ad una transizione da diete più di questo tipo a diete magari non proprio di questo tipo ma che comunque si avvicinano a questo ancora il mondo sta andando verso rese agricole sempre più alte allora in questa in questa figura abbiamo riportato in ascissa la popolazione di diverse regioni del mondo sulle ordinate abbiamo una cosa c'è una cosa che abbiamo chiamato land efficiency ossia quante chilocalorie possono essere prodotte in un ettaro di suolo coltivato quindi sostanzialmente se noi utilizziamo le chilocalorie come elemento per quantificare quanto cibo riusciamo a produrre questo numero ci dice ne stiamo producendo tanto poi vabbè la chilocaloria non basta ci sono mille cose da dire però cominciamo a guardare questo numero guardiamo per esempio quello che succede con questa curva blu che è la regione East Asia and Pacific quindi parliamo della regione cinese popolazione sta crescendo è cresciuta scusatemi dal 61 al 2012 in maniera molto importante vedete quanto ci siamo mostri sulle ascisse ma vediamo anche sulle ordinate l'efficienza del singolo ettaro è cresciuta tantissimo guardiamo l'Europa azzurrina che è successo in Europa crescita della popolazione praticamente nulla ma le rese sono cresciute tantissimo Nord America stessa cosa in Africa la popolazione è cresciuta tanto ma le rese non ancora tantissimo il trend complessivo è quello a far sì che stiamo sfruttando sempre di più la risorsa terra disponibile quindi abbiamo poca terra a disposizione questa poca terra viene sfruttata sempre di più questo è un trend molto chiaro beh va bene nel senso che questo ci consente ci consente di produrre il cibo che serve a questa popolazione crescente ma in termini di risorse idriche in termini di risorse idriche sta a significare che per poter avere queste rese più alte noi dobbiamo dare più risorse risorse di tutti i tipi risorse economiche maggiore meccanizzazione maggiori fertilizzanti anche più acqua questo è un grafico che si ferma al 2010 per quanto riguarda i prelievi di acqua ma se noi lo proiettassimo al 2050 vedremo che queste curve continuerebbero a crescere quindi il mondo sta andando in una direzione in cui sicuramente l'acqua di cui avremo bisogno sarà sempre di più e sarà sempre di più l'acqua in movimento ossia l'acqua virtuale che si muove da un da un da un continente all'altro da una nazione all'altra questo è un è un grafico che abbiamo predisposto per provare a capire quello che succederà a questo sistema delle risorse idriche globalizzate nell'anno 2050 i pallini sono i continenti di nuovo Nord America area del Nord Mediterraneo East Asia la dimensione del pallino è quanto stanno importando il colore del pallino ci dice invece quanto stanno esportando questo è quello sopra il mondo oggi che cosa si vede dal mondo odierno c'è un importatore estremamente significativo che è la regione dell'East Asia and Pacific e ci sono esportatori significativi che sono il Sud America e il Nord America qui il colore non si vede che cosa ci aspettiamo che succeda al 2050 innanzitutto ci aspettiamo che i flussi di acqua virtuale triplichino quindi sempre più commercio sempre più navi che viaggiano un mondo sempre più globalizzato anche in termini di risorse idriche ma poi vediamo l'East Asia diventerà un importatore ma non più così importante come perché cosa succederà succederà che le popolazioni in queste regioni del mondo non cresceranno in maniera più così importante e invece viceversa stanno investendo tantissimo sull'aumento delle rese quindi diventeranno a loro volta degli esportatori vedete il colore del pallino è diventato un azzurro più chiaro e tutta una serie di altre cose vedete queste frecce sempre più grosse e un mondo sempre più globalizzato quindi per andare a concludere quali sono che cosa ci aspetta nel futuro sicuramente ci aspetta una situazione nella quale la pressione sulle risorse idriche sarà ancora maggiore se saremmo in grado di sostenerlo oppure no non sono in grado di dirvelo ma penso che in parte il dibattito che potrà venire fuori potrà dare elementi ulteriori le conclusioni quindi direi che non ci sono però questa mattina in metropolitana mi sono preso questa coppia del giornale che forse voi anche avete avuto di leggere metro non so se lo vedete il titolo dice da questa piuma sta per nascere una crocchetta di pollo a San Francisco si sta lavorando la produzione di carne sostenibile creata con culture cellulari quindi quando parliamo del futuro non dimentichiamoci che poi noi costruiamo degli scenari ma è ovviamente estremamente difficile star dietro a che cosa possa significare l'innovazione tecnologica in termini positivi eventualmente ma anche in termini negativi sulla sostenibilità dei processi che vengono via via proposti ma anche il sottotitolo che non c'entra nulla è ultimo vertice i conti restano quelli cioè poi in Italia alla fine comunque i soldi non ci sono quindi la mia conclusione è questa in qualche modo il problema è estremamente complesso non è un gioco da ragazzi in qualche modo perlomeno lasciamo che venga studiato da persone che se ne occupano professionalmente la mia ultima slide è per ringraziare tutte le persone con cui ho collaborato per costruire questa presentazione tutto il lavoro degli scorsi anni all'interno di questo progetto IRC che si intitola proprio affrontare la scarsità di acqua globale in un mondo che è sempre più globalizzato grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione